È il grande giorno. Ho un annuncio da condividere con voi e la mia famiglia. E riprenderò le loro reazioni. Sono un po' nervoso, ma è il momento. Io sono felice e non vedo l'ora di condividerlo con voi. Certo che c'è, invece. Siete voi che vi inventate le cose. Non c'è una regola così. Non c'è scritto da nessuna parte. Ho qualcosa da dirvi. Con la videocamera? Sono gay. Ok. Mi passi il tabule, grazie. Io prendo un po' di carote, mamma. Tieni. Grazie. Tutto qui? Scusa? È la vostra reazione. Non capisco. Vi dico che sono gay e non ve ne frega un cazzo. Ma volevi che mi arrabbiassi con te? Non ti sto seguendo, Marcus. No, ma altri genitori sono scioccati. Si bloccano per qualche secondo. È la rivelazione dell'anno. O potresti piangere, abbracciarmi, consolarmi. Almeno fingiti sorpresa. Metto a nudo la mia anima e tu mi dici ok. Ma perché non sono affatto sorpresa, Marcus? Un po' me lo aspettavo. Lo sapevi? Beh. Ti fa tanto ridere? Pensi che sia una sorpresa per noi? Come lo sapete? Film preferito High School Musical e la tua suoneria è Totally Spice. Che c'entra? Non significa nulla. Sono tua madre, Marcus. Le sento queste cose. E poi so che alcune cose ti interessano di più. Beh, è l'istinto materno. Perché non me l'hai mai detto? Perché stavo aspettando che fossi tu a parlarmene. Vedi, non sono affari miei se non vuoi che lo siano. Non volevo urtarti. Questo è molto omofobico. Anche questa frase che ripeti un miliardo di volte al giorno era un indizio. Non sto parlando con te, mamma. Tu parli a Matilde e dei suoi fidanzati. Non hai paura di urtare anche lei? Sì, è vero. È vero, ho sbagliato. Probabilmente hai ragione. Solo che non sapevo come... Anche io. Sono lesbica.